E' la prima volta che venite a sentire gli Exotago? No, 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 sono andato anche a Parigi, io li ho visti a Genova. Siete qua di Spezia? Sì, sì. 5 terra, vabbè, sempre la solita banda. Ciao ragazzi, siete emozionate per questo concerto? Ma è la prima volta che venite a sentire gli Exotago? Sì, sì. Sì, sì. E' la prima volta che venite a sentire gli Exotago? Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.